... rispettosa, abbiamo aspettato che la funzione in chiesa adesso penso che possiamo partire dall'inizio alla nostra giornata la nostra giornata che può iniziare in maniera ufficiale ci sono tutti quanti io chiedo gentilmente poi dopo qui al centro della piazza se non riesca a fare di passare alla banda che è all'interno alle vostre spalle grazie seguito dalla sua corte grazie 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 seguito dall'assessore dell'ufficio cultura di Saronno, ecco la chiave di Saronno, ecco la chiave di Saronno, ruolo di tamburi, ruolo di tamburi, signore e signori la chiave di Saronno viene ultimamente data a Reo Marotto da parte del sindaco, prego. La consenna della chiave della città di Saronno a Maretto è un evento unico, il sindaco a nome della città, con sedere a Reo Marotto, la regina Manella, le chiavi perché oggi la città sia occasione di festa soprattutto per i tuppicini, benvenuti oggi alla vostra festa, madri e dei grandi che si sono messi in maschera con la nostra sessore dell'ufficio che sia una giornata di festa, di condivisione della gioia in tutto con moderazione, divertite di con moderazione perché si è avvenuto un'opposione di gioia, di un termine di insieme, senza i giorni, senza i disarmi, perché oggi è stata concentrata di un'attività di questa sera alle 17 che è nominata la grande sfilata dei fatti che partirà da Piazza del mercato alle ore 15 e che terminerà a Piazza del cittadino adesso, al termine a Reo Marotto riconseverà il piano, la piano della città, al sindaco, qualsiasi cosa accada l'ora in avanti alla responsabilità sarà vero e svolto. Buona giornata a tutti, buon divertimento e buon relazione. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buon divertimento. Buon divertimento. State bene se potete. Un fortissimo applauso. Buon divertimento. Abbiamo... Benissimo. Benissimo. Adesso volevano fare una foto qui tutti i bambini che siamo con noi. Prego venite, venite. Venite piano, piano, piano. L'importante è che non vi facciate male ragazzi. No, giungo le spade, ok? Piano. Perfetto. Benissimo, ok? Va bene così. Aspettate, facciamo due trance. Va bene, prima questa, poi facciamo l'altra al massimo. Perché sennò... Perfetto. Giù questo palloncino qua così. Quindi lo faccio così, il palloncino. Vieni qua qua davanti che se no non ti si vede niente. Vieni qua. Anche tu uomo ragno, i bambini piccoli davanti. Venite, venite, i bambini piccoli qua davanti. Ok. Adesso guardate le macchine fotografiche e dite cistite. Un bel sorriso tutti, dai. Allora bimbi, facciamo tutti quanti una bella cosa. Adesso per la manina salutiamo tutti quanti. Fate tutti, ciao, ciao, ciao. Ciao, ok. Io intanto vado a ricordare gli appuntamenti a partire da adesso, anche solo prima, nelle varie zone del centro, Piazza Volontaria del Sangue. Noi siamo il gruppo organizzatore del Carnevale 2012, il gruppo amici del Carnevale Saronnese e per la sfilata di oggi abbiamo organizzato il carro dei pirati di Peter Pan. Ci sembrava giusto richiamare la sindrome di Peter Pan, visto che siamo tutti ragazzi adulti, ma ci piace ancora divertirci come quando eravamo piccoli. Grazie. Allora, noi siamo il gruppo degli zombie del Carnevale di Saronno. Abbiamo organizzato l'evento tramite Facebook, siamo un gruppo di amici, adesso prima o poi ne arriveranno anche altri, spero. Andremo in giro simulando degli zombie e mordendo le persone. No, magari mordendo le persone no. Volete dire qualcosa anche voi? Siamo alla ricerca di cervelli, avevamo bisogno di cervelli. Niente da dire. Io non ho niente da dire, farò e basta. Non tutti rilasciano interviste. Non tutti rilasciano interviste. Bene, oggi siamo qua con il nostro carro ideato completamente da noi, siamo il Comitato Acqua Bene Comune di Saronno. Cerchiamo di coinvolgere la cittadinanza sul tema dell'acqua, un tema a noi carissimo, importante. Vediamo cosa riusciamo a fare, abbiamo ideato tutto noi e abbiamo per l'occasione Santa Elena, protettrice dell'acqua, apparsa più volte a livello nazionale e oggi noi l'abbiamo qua in carne ed ossa. La parodia è un po' questa, distribuirà l'acqua gratuita Elena, mentre gli uomini cattivi come me, vestiti di nero, la faranno pagare cara. Come vedete partecipiamo alla festa del Carnevale saronnese organizzato da tutte le associazioni partecipanti al Comune di Saronno. Questo carro è organizzato dall'associazione Sicilia Saronno e vi ricordiamo che il 2, 3, 4 di marzo ci sarà una grande manifestazione organizzata da Sicilia Saronno con l'attrazione opere ai pupi, gruppi folcolistici, prodotti tipici, cannoli, arancini, biscotti, latte di mandorla, tutto ciò che ne compete dalla gastronomia siciliana. Ciao, siamo la scuola di danza, danza, arte e studio di Saronno e partecipiamo al Carnevale 2012 rappresentando Alice nel Paese delle Meraviglie. Ciao! 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 Buongiorno a tutti, questo è il carro dei puffi che è stato allestito da Losa Saronno Atletica Leggera e oggi i bambini, i ragazzi hanno allestito tutto loro, hanno colorato questi striscioni e si sono dati da fare E in tante carri, ripeto, si avvicinano ancora di più sempre verso di noi, la piazza che si riempie sempre di più Gruppo amici del Camionale Saronese Scuola Spurca, di ballo, fin sotto di noi Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti. 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 sono state presentate le maschere da parte della Prologo di Salono di Lea Maretta e Regina Granella in collaborazione con l'Ufficio Cultura e l'amministrazione comunale in forte collaborazione con l'Aprologo l'associazione di Cernovale Salonese è stata creata questa manifestazione che ha premato il mio liceo abbiamo legnato in troppa benissimo la sua maestà il sindaco Reo Maretta ufficialmente riconsegna le chiavi della città al nostro sindaco un applauso un applauso piazza libertà Salono, ragazzi uomini bambini facili sentire e per finire io ringrazio ovviamente il nostro Dino che ci ha venuto a compagnia non abbiamo finito sembra che non è finito i campi sono state consegnate previsi al centro io volevo ringraziare volevo ringraziare da parte mia e di Cinzia da parte del gruppo di cercare ma le salmese ho in tutto l'elenco da fare vi chiedo la pazienza voglio ringraziare veramente il gruppo di Cattolini di Saronno l'unvigio della cultura dello sport di Saronno il balloon shop che ci ha restito con queste decorazioni eccetera il gruppo fattoniere di Saronno che hanno scordato il nostro re e la nostra regina l'associazione il sandalo di Saronno la società OSA scuola di atletica di Saronno le scuole tutte le scuole elementari e materne di Saronno grazie il corpo musicale di Saronno il corpo musicale di Gerenzano le maggiorelli di Gerenzano gli spegnalatori di Gerenzano il corpo musicale di Cantù i ragazzi di Notafra di Domanzo l'associazione culturale di soli sociali l'associazione culturale Sicilia l'associazione nazionale dei volontari dell'arma dei carabinieri di Saronno la protezione civile il gruppo zombie l'ASCOM i vigili urbani e non da meno l'associazione nazionale dei marinai tutti gli sponsor quale è uno spar decadono di Saronno ballon shop e per adesso abbiamo finito io voglio ringraziare tutta la cittadinanza voglio ringraziare tutti voi della presenza di essere stati qui grazie 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 la vita marmolato anche per la collaborazione i ragazzi del service io veramente se sono ben ringraziare ragazzi sto compito domani mattina un grazie particolare a tutti i bambini di Saronno e oltre grazie a tutti per la presenza questo sappiate che sarà solo il primo anno i ragazzi di Saronno del GLS io voglio ringraziare direttamente di persona gli amici quale Manuel DJ Pru alla console Giada Gianluca voglio ringraziare veramente tutti dito questo se mi permettete io lo dedico al mio papà che riguarda da lassù ragazzi ciao grazie a tutti quest'anno è stato il primo anno speriamo il primo di tanti grazie ancora grazie 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 e così siamo arrivati alla fine del primo carnevale di Saronno è stato bellissimo noi abbiamo partecipato siamo Federica e Daniele anche se non si sente molto noi io sono la vita rappresento la vita lui rappresenta ovviamente la morte che non parla ricordatevi sempre che io sarò presente per tutta la vostra vita lui arriverà alla fine